La Lombardia ha quasi raggiunto l'immunità di comunità, ci avviciniamo velocemente al 70% della popolazione vaccinata, annunciato la vicepresidente della regione Letizia Moratti. Grande successo ieri sera a Torino per l'open night dedicata ai 18-28 anni piemontesi. Mille vaccini in sei ore nel lab di Reale Mutua. Italia a seconda in Europa, dietro solo alla Germania, come popolazione interamente immunizzata. Ieri l'appello del premier britannico Johnson durante il G7, vaccinare tutto il mondo entro il 2022. Da domani altre quattro regioni in zona bianca, in tutto saranno sette, si tratta di Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto, che si aggiungono a Sardegna, Friuli, Venezia e Giulia e Monlise. Sempre da domani coprifuoco spostato a mezzanotte.